Honegi, cosa sarebbe? Un'applicazione, una piattaforma che usa la tua connessione wifi e in cambio ti paga. Sì, ti paga e così facendo fai usare a loro la tua connessione wifi. Ne userà veramente pochissima. Quindi come funziona? Per esempio, come puoi vedere, Honegi in termini molto semplici è un servizio che vi paga per mettere a disposizione la vostra connessione internet. Questa connessione di banda verrà usata da Honegi per sopportare i propri clienti nel trasferimento di file e altre attività. E voi nel frattempo verrete pagati per aver messo a disposizione la vostra connessione internet. Quindi in questo caso tu vai sul mio link reddito passivo, il link affiliato, già ricevi 3 dollari che sarebbero 3.000 punti. Quindi in questo caso io come puoi vedere ne ho solo 0.82, però tu già cominci con 3.000 punti, fai altri 17.000 punti, lo lasci così a FK e hai fatto. Arrivi a 20.000 punti e puoi ritirare i tuoi 20 dollari. È una buona cosa per arrotondare a fine mese, tipo se ci sono altri servizi, applicazioni come Honegain, tu potresti veramente sfruttarli per guadagnare a fine mese usando Honegain. Oppure altre applicazioni simili per guadagnare in questo modo. Quindi in questo caso ci sono due opzioni per guadagnare con Honegain, il Jumptask Wallet o Honegain Wallet. Io sto usando questo qua perché così facendo mi dà pure un 10% di bonus. Se accetti l'altro link di affiliazione riceveremo entrambi un 20% di bonus in più. Quindi questo è il Jumptask Dashboard ed eccolo qua. Qui puoi guadagnare di più facendo giochi. Come puoi vedere 12 dollari sarebbero 9.57.253 punti che sarebbero GJMPT. E sarebbe una valuta come il Bitcoin, una valuta. Però questa qua è molto molto bassa, però non è niente male. Quindi come funziona Honegain? Scarichi così l'applicazione per Windows, la installi, accetti con il tuo account Google. Però prima di fare tutto accetta attraverso il mio link di affiliazione per ricevere già 3.000 punti che sarebbero 3 dollari. Una volta fatto, questa è l'applicazione e come puoi vedere sta condividendo la mia connessione Wi-Fi. Quindi mi sta pagando, dicevo così, i punti. Ok? Ed eccola qua. Ovviamente se tu spegni il PC e la riprendi da telefono è una buona cosa. Tu la fai stare per tutta la notte quando stai dormendo. E quello continua ad accumulare megabyte. Ok? Quindi qui ci sono i premi. Tipo devi fare 15 megabyte al giorno per aprire il pacchetto qua. E ti dà 5, 10, 20, 100 punti. E li accumula in questo alveare grosso. Ok? Quindi in questo caso il reddito passivo del link è questo. 3.000 punti con 3 dollari. Richiedi già il tuo premio. Jump task per guadagnare punti in più e ritirarli così sul tuo portafoglio. Ovviamente poi questa è una cosa che spiegherò più avanti. E basta. Quindi come puoi vedere qua sotto io sto usando OneGain sul telefono. Quindi due dispositivi o tre dispositivi o dieci dispositivi non possono usare la stessa connessione. Se no sarebbe bello guadagnare tipo dieci volte di più. Sarebbe molto molto bello. Quindi in questo caso lo sto usando adesso sul telefono. Ok? Quindi ed è anche un'ottima cosa per raddoppiare per esempio se sul telefono stai usando i dati e sul computer stai usando la wifi. Due connessioni diverse. Doppio guadagno. Quindi se hai problemi scrivimi su Discord in privato. Link sotto al video. Se ti è stato utilissimo questo video su come funziona OneGain. Accumuli punti. Lo puoi lasciare a FK oppure quando stai giocando. Se giochi sempre. Se giochi sempre. Fallo rimanere a FK. Non si prende niente. Poca connessione 50 kilobyte. Non sono proprio niente. Quindi se hai problemi scrivimi direttamente su Discord in privato. Oppure Instagram ti risponderò. E quindi grazie a tutti per questa visione. Accetta il link di affiliazione sotto al video per ricevere già 3.000 punti con 3 dollari in anticipo. E poi devi fare 17.000 punti per ottenere 17 dollari. E potrai ritirare 2.20 dollari. Senza nessun problema. Quindi OneGain è una buona piattaforma che ti paga usando così la connessione internet. Quindi grazie a tutti per questa visione. Per il vostro tempo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.